salve a tutti ragazzi penso che abbiate già capito il motivo di questo video quindi sedetevi comodi penso che abbiate una serie si ascoltatevi bene e vi darò le giuste spiegazioni chi mi segue su facebook già sa dell'accaduto ma per chi non non mi segue ecco perché anche raccomando di seguirmi sulla pagina vi racconto tutto l'aneddoto tutta la faccenda sono andato a cancellare un file sul computer ma alla fine oltre a cancellarmi questo file ha cancellato tutto il pc si ha cancellato tutto quindi i video che dovevo caricare sono andati a puttane pensavo fossero nel cestino ho detto vabbè capitato no non erano nemmeno nel cestino e fra questi video c'era anche l'apertura di mezzo box che avevo vinto all'uina box a salerno con bia quindi se volete vi posto anche la deck profile la decklist del del mazzo poi ho perso il file che editavo ogni volta con photoshop e che mettevo a fine video che mostrava le miniature non so se avete capito l'ho perso quindi dovrò farlo da capo quindi altre due ore tipo come minimo e ora vi chiederete e ma quando mai tu hai fatto più video in una volta sola per una volta avevo provato a farlo quindi tenere già video pronti ma alla fine la sfiga ha avuto la meglio quindi ho perso anche quei due tre video non vi dico che erano molti ma sempre due tre video editati e fatti si ho perso tutto quindi ovviamente l'ho mandato dal tecnico un mese fa e mi è tornato oggi e vi dico che non ha potuto fare nulla purtroppo ormai ha perso i file per fortuna la intro del canale era sull'hard disk che ho qui quindi fiu come si vuol dire nei manga e nei fumetti e questo è tutto l'accaduto quindi ragazzi vi chiedo scusa per questa inattività ma non è di pesa da me purtroppo non dipende da me tutto ciò così come è stato in passato con la scuola stavolta anche con è stato proprio il pc quindi senza pc non potevo caricare video volevo caricarvi un video senza intro senza nulla dal telefono con una qualità scadente ovviamente ma poi mi sono detto vabbè poi arriva poi arriva il pc per arriva poi arriva poi arriva e alla fine l'ho detto finché non è arrivato oggi volevo caricarlo giovedì però alla fine papà ha detto vedi che sabato vado a ritirarlo vedo se ha finito e questo è il risultato quindi niente da fare quindi un'altra cosa che vi chiedo per piacere per farmi vedere che non siete iscritti di iscritti veri e propri al canale che mi seguite sempre scrivetelo qui sotto nei commenti perché mi farebbe veramente piacere insomma sapere che qualcuno mi segue davvero poi altra cosa dopo aver letto mille mila notifiche che vedete sulla campanella era tipo rosso che fra poco esplodeva è stata questa domanda stardust ma di dove sei allora io abito attualmente vicino potenza ma verso fine mese quindi verso il 30 al 31 mi trasferisco a roma a causa università quindi diciamo che a novembre divento per metà romano quindi vi chiedo di nuovo per favore nei commenti scrivete se siete di roma cioè chi è di roma scriva nei commenti che del posto e mi dica anche la fumetteria che frequenta così vedo se posso arrivarci per fare anche qualche video a voi che giocate insomma perché non so se avrò molto tempo per giocare sempre per gli studi magari più in là vi spiegherò il tutto è semplicemente questo perché se siete vicini potrei fare un pensierino il sabato o la domenica non lo so per stare un po in fumetteia altrimenti lascerò perdere perché se state che ne so tre ore e dico tre ore perché roma è roma state a tre ore di distanza non penso di poter arrivare quindi non per altro altra cosa i soldi che dovevo utilizzare per i megatin dato che il pc ormai era andato a puttane e utilizzati per andare al romics tuttavia non pensate stardo stolo sono stronzo no perché i soldi c'è la mia paghetta sia 19 anni diceva ancora la paghetta che dovuti a si diceverò la paghetta quindi avrò di nuovo i soldi per i megatin ora ho 20 euro quindi un megatin già posso comprarlo se mi arriva la paghetta penso di poterne comprare comprare due e mancano i soldi della spedizione si stava spegnendo il desktop del pc ma ok quindi ragazzi al momento non mi viene altro da dire a parte il cerco cerco carte monarca soprattutto caius mega caius mobius e zarborg ovviamente tutte e tre mega monarca e altro non mi viene in mente in questo momento vi chiedo ancora scusa mi raccomando scrivete qui sotto se siete non siete se siete iscritti veri e propri del canale non iscritti di passaggio scusate ma sono un po' balbuziente e nulla e chiedo di nuovo scusa lasciate mi piace un commento iscrivetevi al canale seguitemi su facebook e niente arrivederci al prossimo video ciao